Siamo che Iguain è molto bravo a attaccare la profondità, non so quanta benzina ha nel motore però spesso e volentieri gli piace tagliare in mezzo ai due centrali per proporsi in profondità. Buona chance per il Napoli qui con Iguain che raccoglie il pallone, vuole servire Insigne, lo aspetta, lo serve, la palla è un po' lunga, Insigne la controlla, in area sinistro, Doucet arriva Iguain, come gioca fa sempre gol, Elfipita 1-0 per il Napoli. Eccolo qui, subito la regia di Giorgio Galli perché costringe Marchinius a girarsi e poi offre una grande palla ad Insigne con l'esterno, Insigne calcia anche disperdamente con il sinistro e poi la zampata. Prova a girarsi, qualcuno cerca di fischiare anche lui, palla dentro per Matuidi, resista, l'attacco alle sue spalle di Giorgini, ancora Matuidi la mette forte e tesa, deviazione Ibrahimovic, a sorpresa, segna Ibrahimovic, 5 gol consecutivi per lui nel Paris Saint-Germain, 2 in Coppa di Francia, 2 in campionato. Ci hanno abituato sempre a delle giocate incredibili, qui una palla persa dal Napoli, riesce Matuidi a mettere la palla. Alla facilità con cui fa questo gol? Mezzo centimetro per Ibrahimovic vuol dire una palla gol per qualsiasi altro attaccante, riesce sempre a mettere... Verso Hiller, stavolta sbaglia l'idea, allora Pastore in contropiede, finta, controfinta, tunnel, passa Pastore! Mamma mia, Javier Pastore e il Flaco fa 2-1 con un gol, favoloso! Fermi tutti, fermi tutti, passa su Hiller, finta, semi-tunnel a Britos e poi batte Mariano Anducar, Napoli 1-1, Paris Saint-Germain 2. È stato fantastico contro il Chelsea, se ricordo bene al Parco dei Principi con un gol letteralmente inventato Pastore, questa ne inventa un altro. Grazie mille!